Uno dei poteri della meditazione, uno dei benefici importanti della meditazione è quello di migliorare la nostra concentrazione. Siamo abituati a dividere il nostro stato attentivo su più aspetti. Stiamo lavorando, abbiamo il computer davanti a noi, abbiamo il telefono, dobbiamo rispondere ai messaggi, dobbiamo rispondere alle mail, dobbiamo rispondere alle persone e questo crea una frammentazione della nostra attenzione. Cosa insegna la meditazione? Insegna a richiamare questo stato attentivo prima di tutto sul corpo, successivamente sulla respirazione. E questo ci fa vivere il momento presente, impariamo a stare nel qui e ora. È semplice così.